Sono contento di essere stato coinvolto da Felice in giuria, questa è la mia prima edizione dal giurato e quest'anno tra l'altro ho ottenuto una conferenza su scrittura e coscienza storica e ci tenevo a farlo soprattutto perché c'è la presenza di molti giovani e quindi c'è bisogno di una nuova narrativa qui in Italia. Sono molto contento anche perché questa città, Matera, ha bisogno di tante iniziative come questa perché dobbiamo valorizzare sempre di più la cultura, la scrittura e anche la lettura e diciamo che questa può essere un'opportunità per molti giovani di esprimersi e anche di confrontarsi e di imparare a guardarsi intorno per poter poi anche raccontare il nostro tempo perché la scrittura non è solo astrazione, perché la scrittura deve avere una coscienza storica perché non c'è ambiente da salvare se non si salva prima l'uomo.